Musica Ci caleremo, anzi ci iniziamo a calare subito nell'atmosfera natalizia parlando di presepi andiamo subito a collegarci in diretta con la nostra Lucia Voltan che si trova sull'Appennino Romagnolo siamo a Longiano, il borgo dei presepi, ma ci dice di più lei in diretta, a te Lucia e buongiorno Grazie Francesca e buongiorno a chi ci segue da casa Longiano, poco più di 1000 abitanti, 300 presepi, a Natale diventa il borgo dei presepi questa è la 28esima edizione di una rassegna che oramai è di fama internazionale ma come è successo che Longiano è diventata la capitale romagnola italiana del presepe lo scopriamo tra pochissimo, nasce tutto dalla genialità di un fraticello francescano negli anni 50 e tra pochissimo avremo anche ospite un presepista, un artista molto particolare ci racconterà della sua arte, come nasce un presepe e come è nata questa splendida rassegna tra pochissimo Come avevamo anticipato in apertura è il momento di tornare a parlare di presepi di calarci nuovamente nella magia del borgo di Longiano dove per il 28esimo anno ne sono stati allestiti davvero tantissimi per queste feste natalizie ci colleghiamo in diretta con Lucia Volta, Natale Lucia Buongiorno, ed è proprio così quello che vedete alle mie spalle è uno degli oltre 300 presepi che i visitatori di questo delizioso borgo medievale nelle colline poco sopra Cesena potranno vedere nella 28esima rassegna una rassegna che oramai è diventata di grandissima fama internazionale una rassegna che coinvolge tutto il paese pensate che Longiano è escluse le frazioni a poco più di mille abitanti e tantissimi lavorano con grande orgoglio alla realizzazione di questa rassegna di presepi come nasce questa tradizione? nasce tutto dalla genialità di un fraticello che negli anni 50 realizzò questo presepe che ancora oggi costituisce la principale attrazione un presepe meccanico, oggi siamo abituati a tutta la tecnologia più sofisticata del mondo ma negli anni 50 vedere le statuine del presepe che si muovevano non era proprio una cosa così consueta e attorno a questo presepe negli anni è nata una rassegna che appunto dicevo coinvolge tutto il paese ma per farci raccontare di questo impegno e di questa rassegna abbiamo Stefania Brunacci che è la responsabile dell'Ufficio Cultura del Comune come nasce questa rassegna e come si è sviluppata assumendo queste dimensioni? Sì buongiorno, noi siamo arrivati alla 28esima edizione della Longiano dei Presepi che è una manifestazione importante per Longiano, la principale di Longiano dall'8 dicembre al 13 gennaio noi organizziamo un'esposizione di presepi artistici in una mostra collettiva nel centro del paese e lungo un percorso che si sviluppa lungo il centro storico che coinvolge in primis i nostri musei il Museo di Arte Sacra dove ci troviamo in questo momento il Museo della Ghisa, il Museo del Territorio ma anche tanti cittadini, tante case che nei loro giardini, nei loro davanzali fanno presepi il nostro castello dove c'è la fondazione Tito Balestra che ospita un presepe d'autore in tanti si propongono per esporre i nostri presepi quindi non solo noi andiamo a cercare i presepisti i presepisti si propongono a noi, le associazioni, la nostra proloco e le associazioni del territorio ma anche dall'esterno persone che si propongono ed è incredibile veramente sapere quante persone collezionano presepi noi stiamo scoprendo in questi anni che tanti hanno questa passione in Romagna quindi l'amore per i presepi a Longiano e in generale in Romagna è veramente qualcosa di incredibile nella mostra collettiva dei presepi artistici noi ospitiamo sia presepi realizzati direttamente dai cosiddetti presepisti che quindi hanno sviluppato negli anni una tecnica particolare e che durante tutto l'anno in realtà poi lavorano per realizzare il presepe E ma voi i presepisti li coltivate da bambini perché qui fin dalle scuole elementari i bambini si esercitano nel realizzare presepi quindi non solo bambini tra i tantissimi visitatori ma anche bambini che realizzano presepi Sì, nella mostra collettiva abbiamo ad esempio quest'anno il presepe della scuola dell'infanzia di Balignano quindi cerchiamo di coinvolgere i bimbi da subito in questa grande passione con la collaborazione della scuola, dell'insegnante e delle famiglie perché spesso capita poi che anche le famiglie a casa debbano realizzare qualcosina per il presepe e poi i bimbi sono molto orgogliosi di venire a vedere il proprio presepe di portare le famiglie, di portare gli amici e quindi coltivando questa passione sin da piccoli confidiamo poi di continuare negli anni ad avere sempre più appassionati creatori, inventori di presepi Grazie, è comunque una rassegna, lo ricordiamo, che attira ogni anno soprattutto nelle ultime edizioni circa 20.000 persone che vengono qui in questo delizioso borgo medievale Prima si parlava di presepisti, ma dunque che cosa fa un presepista? Noi ne abbiamo uno qui che è Pier Giorgio Poeta uno dei suoi presepi è esposto qua, uno dei principali dunque che cosa fa un presepista? Come si realizza un presepe? Un presepista intanto dà concretezza alla fantasia perché ci vuole un po' di fantasia per permettere alle persone di riuscire a vedere ciò che si pensa non è una cosa così facile Un presepista in pratica è un artista, un po' un artista comincia a lavorare, dà un'idea, piano piano la concretizza, la mette in pratica e poi permette agli altri di godere di ciò che riesce a fare, a realizzare Grazie, e intorno a questa scuola Pier Giorgio Poeta ha proprio realizzato una scuola ci sono persone che vengono da lui per imparare a fare i presepi e da Longiano è tutto, la linea può tornare allo studio Grazie a Lucia Voltan per questa bella chiacchierata che ci ha carato nell'atmosfera natalizia da Longiano Ora noi parliamo invece di un progetto europeo, il progetto Prolific che cerca di dare...